Nella sostanza, come ha detto il signor procuratore, si tratta di una cattiva gestione della cosa pubblica, quindi di amministrare quello che è poi la cosa pubblica ma amministrandola soltanto per fini privatistici. Dalle prime ore dell'alba di questa mattina è scattata una vasta operazione dei carabinieri della compagnia di Sapri nei confronti dell'ex sindaco ed ex assessori e consiglieri comunali del comune di Camerota, 12 misure cautelari e contestualmente 12 perquisizioni domiciliari e personali nei confronti di soggetti facenti parte dell'amministrazione comunale di Camerota emesse dalla procura di Vallo della Lucania che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbero messo in piedi dal 2012 al 2017 un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indefinito di reati contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica. Nella indagine denominata Camarathon, i militari hanno ricostruito numerosi episodi di corruzione, peculato, abuso d'ufficio, falso in atto pubblico, appalti truccati e distrazione di denaro ad opera di ex sindaco, ex assessori ed ex consiglieri del comune di Camerota. Le indagini sono partite da un accertamento relativo ad una vicenda appropriativa da parte di funzionari pubblici del comune di Camerota, dei proventi della TOSAP, dalle prove acquisite, dal contenuto delle conversazioni acquisite, grazie anche alle intercettazioni, è emersa l'esistenza di un collaudato sistema criminale, basato su logiche affaristiche e clienterare, funzionale alla spartizione illecita degli appalti a favore di imprenditori amici, in un circolo vizioso ed impenetrabile, i cui partecipi prosperavano a tutti di scapito dell'efficienza, trasparenza e buona organizzazione dell'azione amministrativa. È apparso dunque evidente come a monte di tale sistema si stagliasse una vera e propria struttura associativa, in grado di effettuare una indebita interferenza sull'operato dell'autorità pubblica, sovrapponendosi ad esse e perseguendo i propri fini illeciti, utilizzando la struttura dell'apparato amministrativo. Ciò ha permesso la spartizione di gare d'appalto comunali, sistematicamente indirizzate a favore di società riferibili agli stessi amministratori o comunque a soggetti vicini.